Allora, anzitutto presento Ivan Pintabona, che è CTO di NWP, Fabio Ghezzi, che è il responsabile dell'area audiovisiva e produzione della Serie B e Ferruccio Zanotti, che è Senior Producer di Sky Sport, dedicato prevalentemente agli eventi calcio. Prima di iniziare il panel, le domande lascerei ad un video che racconta brevemente la remote production della Serie B. 4, 4, 4, 4. Pronto, X? Allora, prima di passare le domande voglio fare solamente due parole sulla Serie B. Che cos'è per noi la Serie B? La Serie B è una sfida, l'abbiamo presa come una sfida, è una sfida che abbiamo iniziato ormai due anni fa, dopo la disruption dei diritti. Come sapete le partite sono passate in esclusiva o co-esclusiva da Zon e tre partite in co-esclusiva per noi. Abbiamo voluto fortemente entrare nella produzione host della Serie B. Perché pensavamo di poter portare, grazie alla capacità delle nostre persone, un valore aggiunto. E riportare la Serie B ad avvicinarsi addirittura a quello che poi veniva fatto e viene fatto tuttora nella Serie A. Abbiamo iniziato un percorso lungo, ci siamo dati degli obiettivi. L'obiettivo iniziale era quello della partenza, Ferruccio si ricorda bene e anche Fabio. Che cosa è stato due stati fa partire con una produzione host poi di 390 partite. e abbiamo cominciato poi a portare delle piccole momenti di innovazione e a portare quello che veniva fatto sulla Serie A e anche sugli eventi UEFA anche alla Serie B. Banalmente parliamo della produzione in 4K, delle finali che abbiamo fatto l'anno scorso, dei play-off, HDR nativo, grazie. E anche con l'utilizzo dei droni, scordiamo quello che abbiamo fatto sulla finale dell'anno scorso, dei play-off e poi delle altre piccole tentative di innovazione, le corner cam ad esempio sempre sulle finali dei play-off e questo era il primo passaggio. Secondo passaggio, qui insieme ai colleghi mi hanno spinto ad arrivare dove siamo adesso. Il secondo passaggio di innovazione era legato alla voglia di andare oltre e quindi di portarci al panel che stiamo per affrontare adesso, che è quello della remote production. Quindi non ci siamo voluti fermare e abbiamo stretto un accordo con NWP che ci avrebbe portato, come ci ha portato adesso, a cominciare a produrre da remoto una serie di partite del campione di Serie B. E a questo punto domando ad Ivan, visto che abbiamo capito che si tratta di una produzione da remoto. Vorrei che ci spiegassi alcuni punti di questa che l'abbiamo ribattezzata Full Remote Production. Prima di tutto il workflow di questa produzione, poi il rapporto tra qualità delle immagini e quantità di banda, quali sono le sfide che avete dovuto affrontare, quali e come le avete superate e quali sono le prossime sfide che ci aspettano, perché è una partnership in tutto e per tutto. E poi, visto che si parla tanto di intelligenza artificiale, come l'intelligenza artificiale può entrare, o come la vedi tu, come può entrare all'interno del workflow del quale comincerei a parlarci adesso. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, è veramente un piacere essere qua, davanti a una platea così competente. Provo a ricordare tutte le domande. Sì, ce l'ho qui poi. Partiamo dal workflow. Siamo entrati in un progetto ben definito, che già aveva un suo iter, una sua dinamica. Abbiamo pensato ad un workflow ovviamente molto cauto, che non fosse troppo impattante per tutti. Quindi abbiamo pensato ad un modello, diciamo, agnostico, che potesse essere interfacciato a qualsiasi tipologia di infrastruttura produttiva presente sul posto, anche perché quest'anno è partita una fase di sperimentazione che ha avuto i suoi tempi, che ha toccato più fasi, sia il modello produttivo che è stato ingegnerizzato da noi con i nostri partner, ovviamente in collaborazione con SkySerieB, sia la gestione della rete e quindi dell'infrastruttura di connettività, garantita ovviamente, e quindi su queste basi abbiamo sviluppato un modello che consentisse di lasciare sul campo concettualmente solo la parte camera, diciamo, e di disaster, mettiamola così, e trasportare tutta la parte, diciamo, di gestione del processo, tutta la parte editoriale completa in un centro, che è il nostro Innovation Hub di Cologna Monzese, interconnesso, dove le funzioni tradizionali di un qualsiasi hobby van, o comunque di un qualsiasi unità produttiva, vengono delocalizzate e gestite. In ordine, rispetto a questo semplice workflow, le difficoltà sono state sicuramente sulla gestione della parte connettività e quindi banda disponibile, che consideriamo che Serie B ha dei livelli di connessione che variano, e quindi una disponibilità di rete media che va ad aumentare negli anni, ovviamente, che dall'inizio dell'anno a fine anno è cambiata, devo dire la verità, e quindi è aumentata, però che partiva da un concetto di disponibilità di circa un giga per secondo di banda da shareare con tutti gli altri servizi. Quindi la disponibilità media che noi andavamo a trovare su uno stadio era quella di 300 mega. Considerate che la Serie B è una produzione a nove camere, con Go Line Technology, con il VAR, eccetera, eccetera, quindi tra segnali main e segnali disaster noi trasportiamo sulla Serie B circa 15-16 segnali e star dentro queste larghezze di banda è stata una sfida importante, mantenendo la qualità di messa in onda, ovviamente, di prodotto. E' latenza bassissima. Ovviamente, per poter gestire una full remote production e quindi tutte le funzioni dal remoto, mantenere, come diceva Beneferruccio, una latenza conseguente. Per far questo abbiamo utilizzato una tecnologia abbastanza innovativa e quindi basata su algoritmi particolari, anche predittivi, quindi che sfruttano anche, tornando a quello che dicevi, anche ai concetti di intelligenza artificiale, e quindi abbiamo ottenuto questo tipo di risultato con una latenza gestibile e un prodotto di qualità. La problematica invece legata alla gestione del processo l'abbiamo riscontrata più che altro nella formazione di tutto quello che è il meccanismo, diciamo, nel creare per i fruitori, quindi dai registi agli operatori, un'esperienza molto simile a quella che è tradizionale. Anche questo l'abbiamo ottenuto con una modalità ibrida, quindi su tutta la parte di gestione e trasferimento segnale utilizziamo una tecnologia che è una tecnologia basata su potenza computazionale, quindi trattiamo i segnali, diciamo, su quel modello per poi arrivare in un core 21-10 e gestire all'interno del centro tutti i segnali in modalità broadcast, ovviamente, l'avete visto nell'immagine, quindi come su un qualsiasi obivano. Questo bidirezionalmente, quindi in un senso o nell'altro. Le sfide un po' le sintetizzerei. Posso aggiungere, Ivan, che noi abbiamo in centrale video comparati i segnali, quelli diretti da stadio, con quello che è passato alla remota e i livelli video negli stessi, quindi la qualità del segnale era identica. Sì, diciamo che il tentativo, comunque, il risultato è molto soddisfacente dato dal fatto che non abbiamo rilevato nessun deperimento dato da questa eccessiva compressione dei segnali. Quindi, come diceva Ferruccio, siamo riusciti anche in questa sfida. Invece, rispetto a tutto quello che sono le altre fasi, come vi dicevo, più che altro l'importante per noi, essendo entrati in un processo già in itiner, era quello di garantire un'esperienza molto simile all'esperienza reale. Quindi, da questo punto di vista, direi che siamo molto soddisfatti. Andando avanti sugli altri punti che mi chiedevi, la remote production, così come la consideriamo, la full remote production, è qualcosa che non inventiamo sicuramente noi. Cioè, nel senso, è qualcosa che abbiamo già trattato e gestito anche in modalità diverse. Il passo particolare è dato dalle sfide che citavo prima, ma soprattutto dalle potenzialità che questo tipo di concetto e di modalità di applicazione può dare e dalla possibilità di inserire, diciamo, su tutti questi flussi e questa tipologia di gestione altre funzionalità, altre modalità di gestione che verranno piano piano nel futuro. Però l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno è sicuramente un know-how che teniamo stretto, perché indubbiamente le possibilità date dall'aver creato una modalità per la quale su stadi o su situazioni, location poco connesse o comunque a connettività diciamo bassa, poter creare un workflow che consente la produzione broadcast di alto livello e quindi la messa in onda di queste tipologie di prodotti sicuramente ci apre degli orizzonti e delle tematiche che sono chiare a tutte e che ovviamente si possono facilmente comprendere. Perfetto, a proposito di questo poi faccio una domanda per Fabio. Innanzitutto, non ho detto una cosa, che questo secondo step che abbiamo fatto sulla remote production l'abbiamo fatto anche perché abbiamo trovato apertura da parte della Lega e Fabio in questo è stato un acceleratore importante ed è venuto subito dietro di noi in questo progetto. Tutta la sperimentazione che abbiamo fatto. Perché senza Fabio questo non sarebbe potuto accadere. Allora, quindi Fabio, da te voglio sapere un paio di cose. Una, qual è il punto di vista della Lega? Siete contenti? Siete soddisfatti? E poi abbiamo capito che il passo avanti tecnologico è un passo avanti importante. ma dal punto di vista editoriale dei contenuti la full remote production può essere un acceleratore nella creazione di contenuti e di conseguenza nella fruizione da parte dell'utente finale di questi contenuti. immagino che più o meno hai capito a cui mi riferisco. Certo, assolutamente capito. Ma per solo una premessa io volevo ringraziare come Lega Sky perché oggettivamente il lavoro che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo è stato un lavoro che ha rivoluzionato completamente le modalità con cui il calcio veniva ripreso prima dell'avvento diciamo Sky in produzione. Io in quel processo non ho nessun merito perché non c'ero però devo dire che anche per motivi personali della mia storia della nostra storia evidentemente avere Sky come partner per noi è stato altro che un acceleratore no? È stato importantissimo. Importantissimo perché parliamo la stessa lingua perché ci conosciamo da tanti anni abbiamo fatto tante cose insieme e quindi in questo lavoro qui quella componente è tanta roba no? Cioè il fatto di parlare con persone con cui tu condividi un vocabolario no? E in qualche modo riesci a avere una strategia comune. Per cui premesso questo quindi io ringrazio Sky ringrazio in particolare te Ferruccio Stefano e Alessandro che non so se ci sono che sono le persone che con noi più da vicino hanno collaborato e i risultati che abbiamo ottenuto sono stati nel primo anno già straordinari nel senso che in Serie B noi abbiamo prodotto dei match e soprattutto trasmesso perché la piattaforma ce lo consente in 4K HDR unici in Italia perché una volta ancora la piattaforma ce lo consente e chi vuole intendere ovviamente intende. Diciamo che visto che qua noi siamo venuti a parlare di remote production parliamo di remote production dal punto di vista della Lega l'anno scorso quando questa idea un po' folle devo dire perché le cose eravamo reduci da un anno sostanzialmente perfetto arrivano loro e mi propongono questa cosa qua sapendo che io sono uno che pur non essendo un tecnico comunque si attizza su certe cose mi piace mi divertono trovo che l'innovazione tecnologica sia un valore in sé nel senso che spesso poi tu facendo queste cose scopri che puoi fare delle altre cose o che ottieni dei risultati che non ti aspettavi prima e soprattutto questa è la parte che interessa a me come Lega quindi diciamo siamo partiti in questa avventura sinceramente anche un po' preoccupati almeno io personalmente perché poi diciamo era tutto da dimostrare con tutta la fiducia che abbiamo nelle capacità di NWP evidentemente andavamo a toccare un prodotto una sfida per tutti un prodotto sì che per noi è centrale nel senso che la Lega vive di questo vive di revenue che sono generate da chi acquisisce diritti nello specifico quindi Sky Dazon e Delbit e malgrado questo insomma abbiamo deciso di farlo abbiamo il presidente su questo mi ha dato apertura totale e siamo partiti è stato secondo me un processo governato in un modo abbastanza intelligente perché perché comunque lato tecnico diciamo hanno compreso le esigenze ma queste erano semplici da comprendere ma anche diciamo le prudenze che venivano da parte mia in particolare e quindi abbiamo costruito un processo che per step ci ha portati ad aggiungere ogni volta un bit in più fino ad arrivare a avere una produzione che io credo che se oggi voi la vedete non siete assolutamente in grado di capire se è fatta in remoto o in locale questo non vuol dire che il prodotto è lo stesso oggi non vuol dire che non cambia niente perché cambia tutto il problema è che quello che cambia e che deve cambiare come sempre in questi contesti è quello che sta nella testa delle persone cioè qua siamo in un ambito in cui e voi lo sapete perché lavoriamo tutti insieme da moltissimi anni è un ambito in cui l'età media è molto alta i giovani sono molto pochi questo è un problema molto grande c'è stato il ricambio non c'è stato il ricambio generazionale e quindi cambiare la mentalità e le modalità di lavoro è molto difficile malgrado questo devo dire che pur con qualche spinta necessaria qua e là le cose sono andate bene però ecco quello che vedete in onda è uguale quello che sta dietro cambia completamente la domanda di Dante è la domanda dal mio punto di vista abbastanza centrale perché perché evidentemente se quello che io vedo in onda è sostanzialmente identico ma quello che faccio dietro mi genera uno sforzo doppio questa cosa probabilmente non vale la pena sforzo uguale patemi d'animo mal di pancia insomma una serie di cose che varie perché invece ne vale la pena perché quando parliamo di remote production parliamo di un diciamo sistema un sistema che è costruito con una serie di elementi diversi uno degli elementi chiave e l'ha detto prima giustamente Ivan io qua non vedo i colleghi dei Towers però spero che ci siano è la connettività evidentemente quindi noi che come serie B abbiamo con grande fatica connesso stadio per stadio uno per uno con un giga nella stagione precedente passando alla remote ci siamo resi conto che si può fare ma si sta meglio con 10 giga si sta molto meglio con 10 giga per una serie di motivi avere questo tipo di connettività consente al di là del fatto che io produco da remoto con dei vantaggi che sono innegabili che sono rispetto all'utilizzo delle risorse all'inquinamento che generiamo ai mezzi che non muoviamo ci sono parecchi punti però diciamo io che sono una persona che lavora sul prodotto da tutta la vita guardo il prodotto e qui tutti noi sappiamo che il prodotto calcio che a tutt'oggi è un prodotto di punta non è più una killer application non lo è più Sky l'ha dimostrato e quindi noi dobbiamo cercare del valore da aggiungere allora fino a quando io mi limito a produrre una partita a generare un programma e a ridistribuirlo è quello il valore che do al mio abbonato a casa vostra al vostro abbonato che paga questa cosa qua è destinata inesorabilmente a declinare il mondo è cambiato non dico sta cambiando è proprio cambiato le modalità di utilizzo dei contenuti anche di questo tipo da parte dei giovani sono completamente cambiate e quindi noi abbiamo bisogno di riuscire a conquistarci dei prospect che sono oggi i giovani che in futuro diventeranno potenzialmente gli abbonati di Sky o di Dazon o di quant'altro comunque quelli che fruiranno questa roba qua allora il fatto di non avere solo il programma da ridistribuire ma di avere l'intero contenuto disponibile quindi per intenderci le singole telecamere che convergono tutte in un unico centro dove io sono in grado di storarle e lavorarle evidentemente mi dà un plus in termini di potenzialità di realizzazione di contenuti che oggi non esistono molto importante ovviamente la Lega queste cose tenderà a venderle io ti vendo questo ma ti vendo anche questo questo e quest'altro e più in generale ci permetterà di produrre contenuti quindi oggi per vedere la partita c'è solo un modo domani probabilmente ci saranno n modi quel domani non è tra dieci anni quel domani è dopodomani quindi dal punto di vista nostro è importante al punto che noi stiamo lavorando a un progetto di realizzazione di un centro da dove noi possiamo così come ha fatto la Lega di Serie A in qualche modo lavorare su un sistema che ci permetta di fare quello che ho detto dopodiché questo centro ovviamente sarà collegato con i fornitori di riferimento per i singoli servizi quindi non cambierà radicalmente il nostro rapporto con i fornitori quello che cambierà però sarà che noi avremo una capacità produttiva molto più importante in termini di contenuti e secondo me questo è un vantaggio indotto dalla remote che noi valutiamo veramente decisivo e molto importante quindi diciamo non so se era questa la domanda io però ti ho risposto così la risposta alla domanda c'è quindi secondo me prendo solamente spunto non da questa parte ma dalla parte precedente per una piccola considerazione sempre sulla Serie B quando hai detto fondamentalmente che per la buona riuscita in questo caso della remote production o in generale di qualsiasi innovazione bisogna essere tutti tesi verso l'obiettivo bisogna un po' remare tutti verso la stessa parte e un esempio concreto è proprio con la Serie B cosa abbiamo fatto noi con la Serie B quest'anno al Dea del Remote siamo riusciti a convincere la Serie B a giocare durante i mondiali abbiamo dato alla Serie B una visibilità enorme non è stato semplice perché la prima cosa che volevano fare i club era fermarsi come si fermava la Serie A gli abbiamo dato l'opportunità ovviamente di noi come Dazon come Elbis di poter avere la vetrina massima possibile hanno avuto l'intelligenza e la lungimiranza di venirci dietro e lo sai benissimo abbiamo ottenuto dei risultati meravigliosi concentrando il meglio della nostra produzione proprio in quelle partite perché sapevamo che quelle partite avrebbero generato un alto riscontro da parte del pubblico quindi voglio prendere questo esempio proprio legato alla Serie B per dire la buona riuscita o la riuscita della remote production come ripeto di qualsiasi innovazione se ha più attori al tavolo gli attori devono tutti remare verso la stessa parte e l'obiettivo del terzo anno per noi è proprio quello spingere ancora di più ma tutti quanti dobbiamo andare nella stessa direzione allora la domanda invece che vorrei fare a Ferruccio è visto che tu sei su quasi tutti i campi ti trovano ovunque la Champions Europa League Conference quali sono se ci sono le differenze o le similitudini che tu vedi tra la produzione da remoto e quindi sia on site che nel caso nel lab di NWP a Cologno e se il prossimo passo può essere anche quello di andare a produrre da remoto degli eventi che sono ancora più importanti semplicemente dal punto di vista del capitolato quindi delle telecamere come ad esempio la Champions visto che nel recente passato abbiamo anche annunciato di aver rinnovato i diritti diciamo che la seconda domanda è complicata sulla prima domanda partirei dalle similitudini che sono quelle che mi hanno veramente sbalordito nel senso che io appunto sono vent'anni che faccio produzione televisiva che giro per campi e quattro giorni prima della prima remote production era fare una partita a San Siro quindi ero su mezzo Obi-Wan come ho sempre fatto quando mi sono spostato il weekend successivo a fare la prima remote che era a Pisa il campo quindi a circa 400 km di distanza mi sono trovato nella situazione identica che avevo allo stadio la mia paura era quella di trovarmi in una situazione invece come dire un po' più confusa e invece se non me l'avessero detto se mi avessero bendato mi avessero portato lì io avrei pensato di essere fuori dallo stadio di Pisa ovviamente manca il calore dello stadio manca insomma la parte diciamo un pochino più umana mettiamo così però questo mi ha veramente sballordito io devo essere sincero sono stato forse il più scettico del gruppo perché sono una persona di solito che prima di fare una cosa ci pensa 100 volte ce lo ricordiamo lui dice che sono un po' rompi e quindi mi sono trovato a lavorare nelle stesse condizioni ed è stata una cosa molto 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 importante invece le differenze io le differenze le vedo come opportunità in realtà mi sono segnato qualche punto perché non mi volevo dimenticare nulla attendere movimentazione dei mezzi minore quindi un occhio alla sostenibilità che è un tema molto importante che sta molto a cuore a tutti soprattutto a Sky gestione di situazioni complicate quindi logistiche particolari non so Venezia Cagliari questo ci può dare un grande aiuto avere l'Hub a Milano ci permette di attingere da comunque un calderone importante di tecnici perché molti tecnici sono concentrati ovviamente dove ci sono più lavori mi viene in mente l'operatore Wessi che in questo periodo tutti lo sanno è un po' difficile da trovare qualificato e quindi l'idea di avere sempre il miglior personale a disposizione la possibilità di affrontare campionati minori che non avrebbero spazio con la produzione tradizionale per una questione di costi un esempio è la serie C che trasmettiamo noi su Sky un'altra opportunità molto molto importante ovviamente è quella di abbattere i costi quindi l'eventuale saving può essere reinvestito sulla produzione stessa cosa che peraltro abbiamo già pensato di fare e poi la cosa molto secondo me più importante è quella che accennava Fabio è quella di poter dare una quantità di contenuti che fino a prima era improponibile soprattutto adesso che ci sono piattaforme insomma multiple quindi solo per la Lega andare ad attingere per i canali social per esempio anche per il broadcaster e in più adesso mi ero messo un po' il cappello del produttore Sky per conto di Lega come broadcaster invece appunto di poter attingere eventualmente a tutto questo mare di materiale ma anche quello di poter decidere se continuare per esempio a fare la produzione classica di integrazione on site l'abbiamo provata il segnale finito di grafica di tutto di var e quant'altro ritorna allo stadio con una latenza inferiore abbondantemente inferiore al mezzo secondo quindi non abbiamo avuto problemi nei commenti e quant'altro oppure decidere di remotare anche l'integrazione quindi avere un risparmio importante sull'integrazione che si può tradurre in own saving o fare più integrazione on site consideriamo che queste tempistiche con la banda di cui parlavamo esatto in futuro tendiamo alla latenza zero parliamo di frame quindi ecco le differenze secondo me sono opportunità opportunità che cercheremo di cogliere stiamo già cogliendo in parte la seconda domanda quella invece più complicata per quello che ho visto per la disponibilità di banda che c'è adesso a livello globale per l'affidabilità della banda per quello che appunto ho visto in questi mesi di test che abbiamo fatto perché noi siamo ancora pur andando in onda in una fase di test st'altro anno partirà la vera e propria remote production dove arriveremo a produrre molte più partite secondo me sì la remote è pronta per fare il grande salto ovviamente bisognerà creare un workflow ad hoc per la remote anche perché anche nel calcio i workflow sono differenti lega serie A per esempio ha un workflow a champions ne è un altro però credo che sia il prossimo passo e l'altra cosa che mi ha anticipato Fabio è il cambio di mentalità quello è fondamentale perché ovvio è 30 anni che lavoriamo abituati con superfici fisiche dentro una bivana a 10 metri dallo stadio lavoreremo a 400 500 700 chilometri di distanza quindi questo diciamo che secondo me sarà forse il gradino o scoglio un po' più alto quello che diciamo dovremmo lavorare tutti insieme rubo un po' di tempo visto che poi l'introduzione siamo stati veloci per fare l'ultima domanda siamo stati bravissimi l'ultima domanda Ivan l'ha introdotta Ferruccio sulla parte di sostenibilità a 360 gradi che può essere lavorativa ambientale economica adesso che hai lavorato su concretamente quali sono le opportunità e quali sono le minacce che vedi se ci sono con la con la remote production concettualmente sia Ferruccio che Fabio hanno citato è ovvio che nel modello finale le riduzioni saranno importanti sia di movimentazione di mezzi personali consumi tutto il resto un altro impatto importante è sicuramente dal punto di vista diciamo del business nel senso che molti dei servizi che utilizziamo attualmente sono servizi pay you go nel senso che paghiamo solo per il tempo di utilizzo non c'è un investimento è un'immobilizzazione che significa che per l'azienda che investe cambia un po' anzi completamente oserei dire il concetto e questo si ribalta su di voi ovviamente sulla possibilità come diceva Ferruccio di poter produrre alcune magari leghe minori cose del genere il cambiamento è grande nel senso magari rispetto ai budget la possibilità di poter produrre o non produrre passa per l'adozione di questa tipologia di tecnologia quindi dal nostro punto di vista come area di ricerca e sviluppo la serie B è stato veramente veramente un investimento e un modello veramente che ci ha dato grande esperienza e dal nostro punto di vista ci posiziona in un modo veramente importante infatti volevo ringraziare Fabio per averci supportato e seguito in questa avventura bravo Fabio bravo Fabio grazie se ci sono domande credo che ci sono le persone autorevoli a cui rispondere la teia che fa paura sì se non ci sono vi ringrazio per l'attenzione e lascerei la parola a Stefano Valsecchi per il prossimo panel che è sulla RPO della MotoGP a voi grazie a tutti grazie